Le iniziative del PD contro l'IDL sull'autonomia differenziata? Sì, abbiamo avviato subito dopo l'elezione della nuova segretaria nazionale, una prima battaglia politica che la segretaria ha voluto mettere al centro del dibattito del Partito Democratico e quindi partiamo da qui, dall'autonomia differenziata che in questo momento è il male dei mali per questo territorio. Quindi faremo una campagna di sensibilizzazione all'interno sia delle istituzioni che dei cittadini con una raccolta firme che parte domenica con i gazebo in piazza e nel prossimo mese porteremo in tutti i consigli comunali della provincia di Crotone una proposta di delibera contro il DL Calderone. Alcuni enti si sono già espressi in tal senso, penso al Consiglio Metropolitano di Reggio Calabri. Sì, anche il Consiglio Comunale di Crotone si è già espresso, ma essendo un partito radicato nel territorio penso sia opportuno che, come ha già riportato Nicola Irto, venga avviata una campagna di sensibilizzazione nelle istituzioni in tutte e 404 comuni della Regione Calabria. Quali sono le motivazioni del no? In questo momento sostanzialmente il primo e il principale no è dovuto alla creazione di un'autonomia differenziata senza partire dai LEP e quindi dai livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali. Se non si parte da quello un'autonomia vera non si potrà realizzare e quindi avremo comunque due itali, una di serie A e una di serie B. Al momento c'è solo una cabina di regia comunque? Sì, però il Governo sta dimostrando nei fatti che le proposte che sta mettendo in campo non sono proposte accettabili o condivisibili o per le quali noi possiamo avviare una discussione con il Governo per qualcosa che unisca tutti perché facciamo tutte parte della Repubblica Italiana. Raccolta firme perché proponete probabilmente un referendum? Sì, alla fine si concluderà con un referendum sicuramente sul quale possiamo dire la nostra e farla dire anche ai cittadini, sicuramente non sarà una cosa che si ferma allo Stato-Regioni o in Parlamento si andrà anche al voto.